Sono oltre 8 milioni e mezzo gli italiani che quest'anno hanno atteso l'ultima settimana per acquistare i regali per se stessi o per gli altri da mettere sotto l'albero. E' quanto emerge da un'indagine col diretti XE sull'andamento dello shopping dell'ultimo weekend prima del Natale, spinto anche dall'arrivo delle tredicesime. Più di un italiano su tre che ha ricevuto la tredicesima dal 15 dicembre la userà in maggior parte per le spese di Natale. Una percentuale del 36% è destinata al pagamento di bollette, mutui, rate e tasse come l'IMU. Complessivamente la spesa degli italiani per i regali sarà quest'anno di 177 euro a testa, in calo rispetto allo scorso anno a causa della crisi economica con l'aumento dell'inflazione e i rincari in bolletta. Quattro italiani su dieci, sostiene col diretti, conterranno il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 30% arriverà fino a 200 euro e un altro 15% si spingerà a 300 euro. Il caro bollette, legato agli effetti della guerra in Ucraina e l'aumento dell'inflazione, imprime una sminta verso regali utili e all'interno della famiglia. Tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l'anno. Tra i regali più gettonati, libri, vestiti e scarpe, soldi, prodotti di bellezza e soprattutto l'enogastronomia, anche per l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai-da-te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profughi della tradizione.